salve ragazzi andiamo a vedere di cosa parliamo oggi sappiamo che quando siamo di fronte a un problema di geometria in genere escono fuori queste parole l'altezza la mediana la bisettrice o l'asse vediamo nello specifico linea per linea a cosa corrispondono in generale partono sempre da un vertice nel nostro caso le facciamo partire dal vertice a ma potrebbero anche partire dal vertice b o dal vertice c e dopo andremo a vedere come cominciamo con la prima della lista che è l'altezza che disegneremo con una linea tratteggiata è una retta ma parliamo di segmenti che forse ci viene più facile che parte da un vertice e scende perpendicolarmente sul lato opposto nel nostro caso quindi l'altezza che chiameremo a h è questa retta tratteggiata che parte dal vertice a e che atterra sul lato bc cadendo in maniera perpendicolare ricordiamo che perpendicolare vuol dire che all'incontro con la retta bc cioè col segmento bc forma due angoli di 90 gradi che qui abbiamo segnato uno in nero e uno in bianco parliamo poi di mediana la mediana la facciamo di un altro colore prendiamo il viola cos'è la mediana è un segmento o una retta vabbè parliamo di segmenti che parte da un vertice e finisce nel punto medio del lato opposto quindi supponiamo che il punto m sia il punto medio del lato bc quindi quel punto che divide il lato bc in due segmenti uguali il segmento che unisce il vertice a con il punto medio si chiamerà mediana andiamo poi a vedere cos'è la bisettrice la bisettrice è una semiretta che parte dal vertice a ma può partire anche dal vertice b o dal vertice c e che taglia stavolta in considerazione dobbiamo prendere l'angolo taglia l'angolo da cui esce in due parti perfettamente uguali come vedete a noi non interessa la bisettrice dove cade poiché cade in un punto qualunque del lato opposto se l'altezza cade formando un angolo retto la mediana cade nel punto medio la bisettrice ha come caratteristica principale quella di dividere l'angolo quindi ha come protagonista l'angolo e non il lato su cui cade abbiamo poi una quarta retta che tiene in considerazione il lato il punto medio ma non il vertice parliamo dell'asse l'asse cos'è lo disegniamo rosa l'asse è quella retta perpendicolare che passa per il punto medio del lato quindi come vedete prolungando viene ancora più chiaro che l'asse non ha nulla a che vedere con il vertice opposto al lato è una retta che incontra il lato creando quattro angoli retti che qui andiamo a disegnare queste quattro rette sono fondamentali per la risoluzione dei problemi e le particolarità di esse le troveremo più dettagliatamente nei prossimi video a seconda del triangolo in cui sono presenti ogni triangolo ha tre altezze tre mediane tre bisettrici e tre assi poiché questo disegno che abbiamo fatto qui potremmo farlo far partire dal vertice in b o dal vertice in c imparare la distinzione tra queste quattro rette è fondamentale per risolvere i problemi di geometria ma poi faremo qualche problema insieme e vedremo come muoverci sulle proprietà di queste quattro rette se vi è piaciuto il video mettete un like e ci vediamo alla prossima ragazzi ciao